ah io faccio qualcosa che guarda con il giro per tenere della torsa avevo un sacchetto di e non tanto non ho portato 10 si non lo amo se non lo faccio a scrivere io io non ero 7 canale se non ero una luce dove l'ha aperto quindi mi ero apprezzati per farci un figlio se invece vi devo accelerare io dico forse che c'è il costituito mi sembra io mi ha fatto ma io quasi quasi ci con i massi di apposto sono apposto ordinaria ci vanno stati qua alla casa mi sembra un mterno mi sembra un mterno mi sembra un mterno mi sembra un mterno in casa della sorella l'avvocato mi sembra un mterno e ci vanno lì dalla nascita il padre non vuoi e ci arriva la casa una parolittura è semplice è un modo più sicuro compresi quelli che le porto a 10 a me non li posso mettere in tasso 4 la differenza ce l'ho ad arrivare a 10 ce l'ho preso 10 perché gli altri 10 li ho portati anzi 9, 9 li ho portati prima di la tasse quindi adesso mancano 300-400 euro e così è dicembre questo è il saldo di dicembre e poi devo portare i genali ma è chiaro se io li firmo e faccio questa forza però io mi sto dicendo a te se li devo affossare di dove f***a affossano ma gli dito mi firma, rimanano 8 mesi là e io gli dirò che tu hai accettato di fare tutto direttamente domani 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 come vedo con quell'occhio qua, devo sottrappare qua la stessa tecchia usco io che sono 15.000 euro al mese per 50 ho scaduto il cavale dopo che fanno la gara me lo passavo di 2 su 7 e come sta accadendo adesso c'è un ricorso di ricorso di ma c'è due io non avevo anni non cazzo 15.000 euro senza pagno non eri c***o c***o una m***a andavate anche se si convince che ci sono questi c***o da 15 ci fanno 100.000 euro non si sa non la devi tempo ma l'ha detto c***o ma l'ha detto chiaramente scusa ma tu da loro che cosa devi avere quello che devi avere il perito è per quello che hai fatto non c'entra niente i fondi che si danno io sto parlando di questa posta che è fondamentale quindi lui non si può permettere di scrivere una cosa senza informare me e per di più andando contro quello che io ho scritto due di prima concordato con loro peraltro ma quando abbiamo cambiato la busta e loro hanno fatto il ribasso beh lo sapevano un po' che l'ostilità in questo mondo è una complicata l'accentrazione del passaggio in book la qualità di te e 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 la qualità di te pensi che mi compri che comunque mi stai mandando i soldi e quindi ma tu compri condiviso questo una volta che quello è vinta non ci vediamo più e mi manda a dire Roberto inizia a mandare i soldi così mi tappi a book mi compri con i soldi facendovi vedere che rispetti gli impegni salvo farmi dire però che è scontato però che è il 5 al netto del contatto e che cambia io sempre ti metto con voi io sono direttore genera spintrepre con cui poi dovrò parlare ugualmente con voi e poi con me in altri in altri ambienti quello che abbiamo fatto è stato veramente tanto e c'è molto prestato se poi sta chiusa a parola nella camera se vuole 3,5% io lo do io mi ha ragionato nessuno non si è risolto io frega poi se poi c'è la parte della lanciare non mi viene una questione economica non per cui si aspetta è il riconoscimento io dico che ancora le do se è merito suo glielo dosso no no se mi sembra una cosa che gestisce comunque mi do una mazza non mi ha fatto se mi ha dato una cosa eh si ha visto accadono una cosa non mi ha fatto ma tu non ti sia quello che io ho creato l'ho creato da se muro un'altra stata non può andare qui eh l'altra grande per il 2018 lui è il posto di 2015 mi ha dato 30 ma non ci stai tutto il 5 sarebbe 55 2018 questo è 5 io ti dico dammi 3 ma sicuro è il 2018 ma io te pure un po' il tiro ma di questo il 2018 sì non si che ci fanno 64 ma non è 35 ma poi ma allora se fossimo pieno regime e quindi hanno meno 5 5 mila non mi è mancato ma noi che stiamo parlando ne che mi vede vedi la vole getta non lo posso non le modalità sono così di cappello quindi vedi la 56 togli questi dividi per 5 e molti di cappello hai trovato questo nel 2018 li togli dall'importo fatturato al 5 perché questi sono fatturati questo nero questo ma questo 43 esatto 43 lo dividi per 5 e non molti 2 e 3 ah femminina io qui ho fatto il conto cinetale ma tu hai capito questo stiamo parlando che se rimanessero questi stiamo parlando tutti e stiamo parlando e ti dico il più se io ho un problema continua a venire una volta a me se non trovi me è la miseria è la miseria guardate che tu e chi mi so se non mi so spiegare no 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 so io io ho 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 Grazie a tutti